Bel lavoro, vince. Vediamoci su quella torre. Questo è un buon posto per stare di guardia. Ehi, amico, hai l'aria di stare come me. Attenzione, compagno. Hanno pisciato nel letto. Ripeto, hanno pisciato nel letto. Chi parla? Come si è arrivato su questa frequenza? Non ho tempo per spiegare, ma il tuo bunker è compromesso. Devi agire in fretta. Maledizione. Sono a casa di Boyd. Mandate un elicottero e ci penso io. Preparati a pedinare, vince. Segui quell'elicottero a casa di Boyd. Lascia salire il bersaglio e fatti portare dritto dal mago di Oz. Ricorda, anche se mi fa ridere dirlo, questa è una missione pacifica. Solo sorveglianza. Non attaccare il bersaglio salvo ordini diversi. Ecco l'elicottero, puntualissimo. Se hai una tuta alare, puoi lanciarti dalla torre e seguirlo. Altrimenti ho visto un quad che potrebbe fare al caso tuo. Ora muoviti. Il modo migliore per cui sai che la prova è il mio video della tua era. Vai, vince. Seguilo. Vai, vince. Ok. Ok. Lascia che il nostro uomo prenda l'elicottero. Ricordati che dobbiamo ancora scoprire dove nasconde il nastri. Qualunque idiota con un bastone può fare waterboarding. Lo spionaggio è ciò che ci separa da quelle bestie. Cambio posizione. Il nostro bersaglio lavorava in hotel. Ha ficcato il naso nei passatempi privati dell'ospite di una suite di lusso. E se l'è ritrovata in culo con rispetto parlando. È fuggito da Kremlinoland. È arrivato negli Stati Uniti ed è finito dritto da Joseph che gli ha offerto asilo. Non possiamo permettere che quello svitato abbia di che ricattare il comandante in capo. Ok, dice. È arrivato il momento del bastone. Quando a terra ripulisci la zona. Stiamo cercando un supporto fisico. Probabilmente un vecchio nastro VHS. Io sto arrivando. Fammelo trovare. Lan giù! Guardate! All'interno Sì, io l'odio del pochino! Io ti odio! Dov'è il tuo padre adesso, eh? Mi sa che stai sprecando tempo. Cazzo, che figata! Non è che... ... ... ... ... ... ... ... ... sembra assurdo se non fosse scoppiato questo casino dispiace ho altro da fare e all'improvviso questa rivoluzione boscaiola è ben al di sotto delle mie competenze una volta in America la parola data era sacra ma oggi viviamo in una nuova America so che volevi qualcosa da me ma è così che funziona mi ricorda una cosa che mi diceva sempre mia nonna metti i desideri in una mano e caga nell'altra vedrai quale si riempie prima ah, mi manca ci si vede in giro il service è una preda più conveniente non si butta via praticamente nulla grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti